I testi di questa settimana non sono assolutamente facili, addirittura il Signore parla di resurrezione e di vita eterna, che era veramente una pietra d'inciampo, come lo fu anche addirittura, come ricordate, per San Paolo ad Atene. Cos'è la vita eterna? Ma che viene dopo la resurrezione? Beh, prima di tutto noi abbiamo un concetto molto sbagliato di vita eterna, come se fosse una cosa completamente diversa da questa vita. Parte un'altra esistenza, se niente tutto quello che è di qua finisce tutta quella che è stata la vita di qua per ricominciare una vita completamente nuova. Sa molto del ragazzino che, fatti gli esami, a un certo punto mette via i libri, butta le penne e quaderni e è finita, ormai non ci pensiamo più, questa noia è finita. La noia di questa vita è finita e comincia la vita eterna. La vita eterna attraverso la resurrezione è la continuazione di questa vita, perché tutto quello che di bello, di buono, di santo, di grande è stato costruito in questa vita rimarrà, rimane, rimane veramente, ma purché sia di valore, cioè dire sia oro furo, sia frutto dell'amore, sia della verità. Questo è il significato di vita eterna. Pensare che di questa terra non esisterà più niente è completamente sbagliato. Avrebbe ragione Marse quando ha fatto credere ai comunisti che la Chiesa, la religione è l'oppio del popolo, perché fa pensare alla vita eterna, così si dimentica delle ingiustizie di questa terra. Non è vero, non è vero. Tutto ciò che su questa terra abbiamo fatto per amore sarà eternizzato dopo la resurrezione. Di là non si sposeranno, questo è interessante, perché? Perché lascia la pienezza dell'amore. Che cos'è il matrimonio? Il matrimonio è un uomo e una donna esseri complementari che hanno bisogno l'uno dell'altro per integrarsi e diventare completi. Dio non ha creato l'uomo e la donna, Dio ha creato l'uomo e donna, perché uomo e donna sono uomini veri e sono complementari. Bene, questa complementarietà l'uomo e la donna lo incontra e lo trova nel matrimonio. Tant'è vero che si vedono i disagi di chi non è sposato, anche a livello psicologico. Di là questa integrazione sarà Dio, sarà soltanto Dio, perché non c'è bisogno di risposarsi per poterci integrare, ma Dio sarà tutto in tutti e sarà la pienezza di tutti. Camminiamo verso Cristo che ci porta verso la resurrezione e camminando verso di Lui siamo certi che quello che costruiamo di positivo su questa terra ha sapori di eternità e un giorno Lui sarà davvero la pienezza di amore per tutti. Buona Domenica.